Le devastanti inondazioni causate dalle intense precipitazioni innescate dal passaggio dell'uragano Daniel hanno scatenato una tragedia nella parte orientale della Libia, soprattutto nella città di Derna. I dati preliminari indicano un bilancio di almeno 2000 vittime e segnalano la scomparsa di circa 7.000 persone. La situazione è stata ulteriormente complicata dal collasso simultaneo di due dighe, situazione particolarmente critica data la presenza di ricche risorse petrolifere nella zona. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato il pieno impegno dell'Italia nell'offrire assistenze e aiuti necessari per affrontare questa catastrofe. Nel frattempo a Tripoli il primo ministro del governo di unità nazionale ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per onorare le vittime.